12 aprile 2021, Messaggio di Nostra Signora Regina della Pace Cari figli, piegate le vostre ginocchia in preghiera per la Chiesa del Mio Gesù. I lupi agiranno per allontanarvi dal vero pastore, ma le maschere cadranno. La verità vincerà. Rimanete con Gesù. Curate la vostra vita spirituale. Tutto quello che è falso cadrà per terra. Datemi le vostre mani e io camminerò con voi. Cercate forze nel potere della preghiera, nel Vangelo e nell'Eucaristia. Coraggio. Il vostro cammino sarà pieno di ostacoli, ma quelli che rimarranno fedeli fino alla fine saranno vittoriosi. Avanti nella difesa della verità. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.